Begni e Fede Il profilo Instagram di Federico Rossi, il membro del duo insieme a Benjamin Mascolo, qualche ora fa si è arricchito di una Instagram Story, che non è passata inosservata, e che suona tanto di frecciatina a Uomini e Donne, rivolta soprattutto al suo extronista Andrea Damante. Il cantante ha infatti scritto, riferendosi al programma di Maria De Filippi, a chi mi chiede spesso cosa voglio fare da grande, io rispondo mi piacerebbe diventare una star come quelli di Uomini e Donne. Che poi si sogna in grande, una vita priva di sogni penso sia una vita priva di significato. Un'affermazione, che appare come una battuta, e che sicuramente è stata fatta in tono scherzoso, anche se qualche fan si è rivolto a Fede chiedendo ulteriori spiegazioni. È a questo punto che è arrivata un'altra dichiarazione, che ha sorpreso i più. Dopo essersi espresso in maniera abbastanza ironica nei confronti del programma Uomini e Donne, Federico Rossi del duo Benny e Fede ha aggiunto su Instagram un'altra dichiarazione, che suona da frecciatina nei confronti di Andrea Damante. Va bene Uomini e Donne come va bene il Grande Fratello. L'importante è che alla fine si arrivi a fare il DJ. Un percorso, che sembra ricostruire quello dell'ex di Giulia Dell'Ellis, partito come tronista di Uomini e Donne, approdato alla prima edizione del Grande Fratello Vip e successivamente diventato un DJ abbastanza richiesto in Italia e all'estero. Federico Rossi sembra non gradire questo percorso, anche se ne chiarisce la ragione. Dal canto suo, l'ex tronista fino a questo momento ha evitato di rispondere alla frecciatina, limitandosi a pubblicare una foto da Follonica nel quale appare in un locale impegnato proprio nella sua attività di DJ.